scommettitori del fine settimana il pronostico di un abituale scommettitore allora volevo giocare io Roma Sassuolo 1x Sassuolo 1x Lecce la vittoria del Lecce X2 del Parma l'1 del Cesena domani la mia scommessa l'ho trovata su C24 allora il mio pronostico per domenica è l'1 della Roma con la Lazio il Milan X2 con il Napoli l'1 della Cremonese l'1 del Catane e l'1 del Lecce questa scommessa la troverete su C24 ecco il mio pronostico per questa giornata di campionato Chelsea Fulham 1 handicap Real Madrid Getafe over 3,5 Roma Lazio gol Catania Parma 1 e Manchester City Manchester United gol la mia scommessa la trovate su C24 allora la mia scommessa di questa settimana è Roma 1, Inter 2, Napoli X, Fiorentina 2 e Catania 1 la mia scommessa la trovate su C24 ci troviamo in Casa Fortuna in Corso Pisani 73-75 i miei risultati che questa settimana mi piacciono sono i due dell'Inter l'handicap della Juve 1, Atalanta Under, Palermo Under, Milan X la mia scommessa la potete trovare su C24 allora le scommesse di questo fine settimana le mie scommesse sono Roma 1, Catania gol, Udinese 2, Genoa 1 e Juventus over 3,5 le mie scommesse le potete trovare su C24 K24